ciao e ben ritrovati nel mio canale oggi andiamo a parlare del deviatore elettrico il deviatore elettrico è un particolare interruttore che al posto di interrompere il flusso di corrente di un cavo elettrico tipo interruttore classico devia questo su un altro cavo come possiamo vedere da dietro ci sono tre ingressi o tre morsetti dallo schema unifilare possiamo appunto notare gli ingressi 1 e 2 e il morsetto l il morsetto nei due servono per essere collegati tra loro attraverso 22 figli mentre il l'ingresso l da una parte servirà al ritorno della della lampada mentre dall'altro deviatore servirà per collegare la fase bene adesso passiamo alla prova pratica di collegamento ecco come si presenta dopo aver collegato elettricamente il tutto brevemente vi descrivo i due come avevamo detto prima i due cavetti di colore rosso in questo caso vengono collegati al primo e al secondo deviatore con i morsetti in ingresso 1 con 1 2 con il 2 poi abbiamo la fase all'ingresso l del primo deviatore al secondo deviatore il ritorno della lampada l'altro collegato al neutro della nostra linea bene adesso passiamo alla prova pratica dopo aver dato alimentazione possiamo verificare come il deviatore funziona allora partiamo dal primo deviatore se noi accendiamo la luce appunto si accende passiamo dall'altro deviatore lo andiamo a a spegnere oppure ritornando possiamo accenderlo da questo punto e rispegnerlo da quest'altro ecco appunto il deviatore ovvio che se lo accendiamo lo possiamo spegnere dallo stesso punto come stando da questa parte possiamo accenderlo e spegnerlo anche da questo punto non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per aver visualizzato questo tutorial ci vediamo al prossimo tutorial per spiegarvi quale come funziona l'invertitore grazie a presto ciao